Quando arriverà uno che compra la mia casa? È da due anni che aspetto. Ti prego signore, mandami quello giusto che me la compra. Forse devo passare un po' il prezzo. No, io non ho fretta. Perché c'è la crisi? Ma sono certo che presto il mercato si alzerà. Colpa delle agenzie, vogliono solo svendere. Tutto questo si può evitare. Ecco come vendere casa pescando un ballenottero in mezzo a un mare di sardine. Ciao, sono Marco, marketer immobiliare, che ti vende casa ai migliori prezzi di mercato senza peri di tempo. Forse avrai notato questa bellissima coppa qui al mio fianco e probabilmente ti chiederai Marco, ma hai vinto qualche gara di pesca? No, anzi, in quello sport sono veramente negato. Questa coppa era di un pescatore esperto che da 5 anni cercava privatamente o con varie agenzie di pescare il giusto acquirente. Così, tra una battuta e l'altra, abbiamo scommesso che se fossi stato l'immobiliarista che gli avrebbe venduto casa, gli avrebbe regalato una coppa. Ovviamente accettò. Ciò che ha fatto differenza per questo signore, che sicuramente farà la differenza anche per la tua casa, è il metodo che usiamo. Basta credere a frasi fatte, tipo, abbiamo clienti pronti a comprare, la sua casa vale più di quello che vuole, abbiamo 30 anni di esperienza, da noi non paga la provvigione, siamo i numeri uno, number one, bla bla bla. Queste chiacchiere non ti porteranno un buon acquirente. Valuta il metodo e se esistono prove di clienti soddisfatti che ne hanno già usufruito. A questo proposito, oggi non siamo più pescatori improvvisati che sparano quattro chiacchiere da bar. Siamo marketer specializzati nel vendere casa, che in soli tre anni di attività abbiamo due sedi e 50 clienti soddisfatti che parlano solo che bene di noi. E sai perché lo fanno? Perché queste persone prima erano come te e non sapevano che pesci prendere. Hanno provato ad affidarsi all'agenzia storica, all'amico geometra, hanno provato a vendere con cinque agenzie tutte insieme o addirittura, perdendo ogni speranza, hanno deciso di vendere da soli e assumersi qualsiasi rischio. Signori, non siamo più negli anni d'oro del boom immobiliare. Se vuoi veramente vendere casa e massimizzare il profitto, serve un metodo, serve la giusta esca per pescare il balenottero che comprerà la tua casa. E se vuoi riuscire in questo, il segreto sta nel valorizzare la tua casa e renderla unico sul mercato attraverso il nostro video emozionale che facciamo solo noi. Immagina, secondo te, ha più probabilità mettere quattro foto in croce e pubblicare in mezzo a centinaia di immobili tutti uguali o fare un video che trasmette emozioni, che ti fa capire gli spazi, la luce, ti fa sentire che comodità avrai nel vivere qui. Beh, se anche per te la risposta è la seconda, conosciamoci e sono certo che già dal nostro primo appuntamento avrai chiara la strada per realizzare i tuoi progetti di vita. Da Marco Market Immobiliare questo è tutto, ci vediamo a rogito, ciao! Oh, oh, ciappa, 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 ciappa!